Libera la tua fantasia in cucina con il forno elettrico Inno Living. Grazie al capiente vano cottura e una potenza fino a 2000 Watt, potrai cucinare alla perfezione tutto ciò che desideri. Puoi scegliere tra sei differenti modalità di cottura ed avrai a disposizione tre pratici accessori. Teglia, griglia e girarrosto. Non dovrai preoccuparti dei tempi di cottura perché tutti i modelli sono dotati di timer da 60 minuti con autospegnimento. Così da non dover aspettare per spegnerlo. Luce interna per controllare i piatti e termostato fino a 230 gradi garantiranno una cottura perfetta dei vostri piatti preferiti.